Buonasera, tra poco sarà pronto il nostro telegiornale, ancora pochi minuti si stanno chiudendo gli ultimi servizi, sono i servizi soprattutto che oggi vedono una politica infuocata dalle parole di Silvio Berlusconi che ha parlato questo pomeriggio ad una convention del PDL a Roma, ha toccato due temi fondamentalmente che hanno scatenato le reazioni delle opposizioni, intanto la magistratura come spesso fa, le toghe ha detto che Berlusconi sono eversive, i giudici sono eversivi, mi attaccano, devo essere protetto e se serve una commissione di inchiesta istituiremo anche una commissione di inchiesta per dimostrare se c'è un'associazione a delinquere dietro ad alcuni magistrati. Naturalmente sono, come potete capire da soli, parole fortissime che hanno suscitato molte repliche delle opposizioni e questo è un tema, il tema dei magistrati e delle toghe. Ma Berlusconi ha poi affrontato anche un altro tema, lo aveva già fatto questa mattina ma c'è tornato anche nel pomeriggio, lo aveva già fatto alcune settimane fa, ovvero il tema della scuola pubblica ed è tornato a dire Berlusconi, i professori della scuola pubblica in sostanza inculcano valori che le famiglie non vorrebbero, diversi da quelle delle famiglie. Anche qui le repliche e le reazioni sono naturalmente tantissime. Di base le opposizioni dicono che Berlusconi è totalmente fuori controllo, è un irresponsabile, bisogna fare qualcosa. È un Berlusconi che poi oggi ha parlato anche a tutto campo, però tra questi due temi ha detto anche io sono disposto se si vuole andare al voto anche ad andare al voto, anche in riferimento ai magistrati. Insomma vedremo, poi ha parlato delle amministrative, non sono mancate le solite battute, insomma davvero un'ampia pagina politica. Però poi ci sono anche altre notizie. Innanzitutto c'è il giallo, oramai è diventato quasi un giallo dei 20 tunisini che sarebbero passati, che sono passati di fatto, hanno varcato il confine da 20 miglia alla Francia. Sapete che sul tema dell'immigrazione, di questa ondata di immigrazione, la Francia è stata molto precisa e decisa, aveva detto assolutamente no, porte chiuse. Ebbene con questi 20 tunisini che oggi sono passati e sono arrivati in Francia, subito si è detto che la Francia ha cambiato idea, le porte sono state aperte. Ma il Ministero dell'Interno francese ha subito detto che non è cambiato nulla per noi, le nostre ordinanze sono sempre quelle, non ci sono maglie larghe. Insomma vedremo che cos'è accaduto perché di fatto questi tunisini sono passati. Poi in relazione alla morte di Vittorio Arrigoni ci sono stati due arresti, due salafiti sono stati arrestati per la morte di Arrigoni. Hamas dice sostanzialmente che si è trattato di una cellula impazzita. Intanto nelle prossime ore, nelle prossime 48 ore, tra domani e lunedì, la salma del volontario italiano ritornerà nel nostro paese. Ma nel nostro telegiornale c'è molto di più e ve lo dimostriamo con i titoli. Berlusconi a testa bassa contro la magistratura. Ci vuole una commissione di inchiesta per accertare se c'è un'associazione a delinquere tra le toghe, la consulta e un organo politico. Poi difende il processo breve necessario. Io vado tutelato contro di me solo Bazzecoli. Le opposizioni reagiscono in coro. Il PD, il vero eversore è lui. Casini parla di stupidario quotidiano. L'Italia dei Valori invoca l'intervento di Napolitano. Bocchino è preoccupato e vuole colpire a morte la legalità costituzionale. Il ministro Alfano condanna i manifesti che a Milano strillavano via le BR dalle procure. Stazione di Ventimiglia. Un gruppo di profughi tunisini sbarcati a Lampedusa passano i controlli e sono in territorio transalpino. La Francia cambia atteggiamento e riconosce i visti temporanei rilasciati dall'Italia. No, si precipita a chiarire l'Eliseo. Quegli immigrati avevano soldi e documenti e dunque potevano entrare. A Gaza confessano i due assassini di Vittorio Arrigoni. Sono due militanti di una cellula salafita ultra-integralista e fuori controllo. Lo ha annunciato Hamas e si dissocia dal delitto del volontario italiano. Domani la Salma inizia il suo viaggio per l'Italia, ma non passerà dal territorio di Israele. La morte dei sette operai Thyssen, la condanna dei manager a 16 anni per omicidio colposo, cambia le relazioni industriali in Italia. Camusso, CGL avverte, la sentenza afferma che la vita di un lavoratore non si può trasformare in profitto. Per il ministro Sacconi ci vuole più prevenzione in fabbrica. La FIOM trascina la FIAT in tribunale. Lunedì i metalmeccanici CGL presenteranno ricorso contro l'accordo voluto da Marchionne su Pomigliano e Mirafiori e firmato da CISL e UIL. L'obiettivo è annullare gli accordi votati a maggioranza dagli operai nel referendum. Buonasera e benvenuti al telegiornale della Sette. Lo avete sentito dai nostri titoli. Sono titoli che parlano di una giornata politica particolarmente calda, una giornata politica accesa ancora una volta dalle parole di Silvio Berlusconi. Sono parole che riguardano come spesso accade, soprattutto in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi dove da una parte a Milano si svolgono i processi che riguardano proprio il premere e dall'altra a Roma, nel palazzo istituzionale, si discute di riforma della giustizia e di processo breve. Vi dicevo, riguardano proprio i magistrati, gli attacchi contro i magistrati. Oggi Berlusconi ha usato parole davvero molto molto dure, ha parlato di magistrati eversivi, trascinati da una sinistra comunista criminale. Poi ha detto ancora Berlusconi, vedremo se sarà necessaria una commissione di inchiesta per vedere se si tratta di un'associazione a delinquere di alcuni magistrati nei suoi confronti, perché dice, io sono di fatto un perseguitato. Insomma, parole davvero molto molto dure. Poi ha citato anche Craxi, il martirio di Craxi, ha detto Berlusconi e qui la platea si è infiammata con molti applausi, visto che era a Roma proprio ad una convention del PDL. Insomma, tantissimi temi in questo Berlusconi-Fiume. Vediamo. Che è giustificata la nostra richiesta di una commissione di inchiesta parlamentare per accertare l'esigenza di un'associazione a delinquere a fini avversivi all'interno della magistratura. Berlusconi ha predifatto la campagna elettorale per le amministrative con una chiamata alle armi. Galvanizza i mille riuniti a Roma dalla fedelissima Michela Brambilla, indicando loro il nemico da combattere, i giudici. Una cassa di sinistra che punta a sostituirsi alla volontà popolare per sovvertire il voto. Lo fanno oggi e lo hanno già fatto in passato, come nel 92, con Craxi. Strappo applausi alla platea, raccontando e mimando come barzellette i processi che lo riguardano. Accusi ridicole, dice. Inutili per condannarlo, ma funzionali. A buttare fango mediatico sul presidente del Consiglio e sul governo. Cercano di farmi fuori, ma io sono sempre qui. Quindi difende il processo breve, voluto dall'Europa, spiega. Se spegnerà il processo Mills, pazienza, è solo un effetto collaterale, ma incide poco, visto che lui resta l'uomo più processato del mondo e anche degli extraterrestri. Ironizza. Un presidente del Consiglio deve essere tutelato. Non si possono mettere contro di lui dei processi che ne diminuiscono la dignità, che lo indeboliscono proprio nel momento in cui deve essere forte per rappresentare al meglio l'interesse del suo paese in Europa e nel mondo. Nonostante tutto, il governo va avanti e vincerà questo, come gli altri appuntamenti elettorali, spiega Berlusconi. La maggioranza del resto è più forte di prima, senza fini e casini, e grazie all'innesto di persone definite, coraggiose. Se in cima all'agenda c'è la riforma della giustizia per ridimensionare i poteri dei giudici, a seguire c'è quella costituzionale. Il governo e il suo capo non hanno poteri, è la tesi di Berlusconi. Le leggi del governo vengono stravolte dal Parlamento, devono piacere al capo dello Stato e alla fine del percorso trovano la Corte Costituzionale pronta a bocciarle. Peccato che questa opposizione, accercata dall'odio per Berlusconi, costringe il governo a fare tutto da solo. A ridosso delle amministrative, però, il Premier lancia un ultimatum al suo stesso partito, attraversato da una guerra intestina. Vogliamo togliere tutti questi elementi negativi e vogliamo aprire la porta, spalancare la porta del popolo della libertà a tutti gli italiani che vogliono dedicarsi al loro paese per renderlo più giusto, per renderlo migliore. Nessuno è indispensabile, tutti avvisati insomma. Quindi torna leggero, scherza sul bunga bunga e ad un supporter che gli aveva urlato bello, risponde quel signore si è accorto di avere un 25% di omosessualità. Ce l'ho anch'io. Solo che io, dopo un approfondito esame, ho scoperto che la mia omosessualità è lesbica. E ci sono due termini, due parole che riassumono un po' quello che pensa l'opposizione oggi di queste dichiarazioni. Irresponsabile e fuori controllo. Da Berlusconi un delirio irresponsabile, l'unico eversivo mi pare lui. Anna Finocchiaro, presidente dei senatori PD, giudica i nuovi attacchi del premier alla magistratura, alla consulta, alla scuola, l'esatto contrario dei richiami alla serietà e dalla sobrietà arrivati dal Quirinale. Di Berlusconi, unico vero eversore, parla anche il finiano Italo Bocchino. A forza di accusare la magistratura di essere un'associazione per delinquere, di accusarla per eversione, Berlusconi sta diventando lui l'unico vero eversore che contrasta gli altri poteri dello Stato. Ormai è diventato un problema che va affrontato ai più alti livelli istituzionali. Per l'Italia dei valori Berlusconi è il reo confesso perché ha ammesso che la prescrizione breve serve a neutralizzare il processo Mills. Antonio Di Pietro chiede l'intervento di Napolitano, prima dice che si passi dalla farsa berlusconiana alla tragedia mussoliniana. Un premier che paragona la magistratura ad un'associazione a delinquere eversiva non può restare al suo posto, attacca i leader IDV. Le sue accuse dimostrano che è lui il mandante morale e politico dei manifesti apparsi ieri a Milano in cui i giudici vengono accostati alle BR. Manifesti affissi da un gruppo definitosi dalla parte della democrazia che sono stati oggi condannati sia dal ministro dell'interno che da quello della giustizia. Nessuna giustificazione, ha detto Alfano, sull'altare dei principi di legalità e di giustizia l'autorità giudiziaria ha versato un tributo di sangue che nessuno potrà dimenticare. Quei manifesti, una cosa brutta il commento di Maroni. Noi stiamo combattendo le BR e lo Stato ha combattuto le BR. Il PD apprezza, ma insiste. Ora il governo dovrà rispondere rapidamente alla nostra interrogazione. Vogliamo verificare se dietro quei manifesti ci sono esponenti di governo o parlamentari del PDL. Allora, un clima teso, come avete visto, con parole pesanti che vengono ripetute, evocate su un argomento che di fatto rappresenta sempre l'argomento che porta allo scontro Silvio Berlusconi, ovvero la giustizia. Intanto, proprio a Milano vanno avanti i processi che riguardano Silvio Berlusconi, dal processo Mills, che è quello che forse lo preoccupa più di tutti al Ruby Gate, ma è proprio sul processo Mills che potrebbe arrivare la prescrizione se la legge, la cosiddetta legge sul processo breve, diventerà, come sembra, legge. Verrò a testimoniare in aula e ribadirò ai giudici che Silvio Berlusconi non mi ha corrotto. Da Londra si fa sentire l'avvocato d'affari David Mills, condannato in primo e secondo grado, a quattro anni e sei mesi per avere testimoniato il falso in favore di Silvio Berlusconi. Procedimento poi prescritto in Cassazione. Ma ormai, anche per quello che riguarda il premio, era ripartito dopo la bocciatura dell'Odalfano, si avvicina la prescrizione e, difficilmente, i giudici riusciranno a pronunciare la sentenza di primo grado, soprattutto se, come sembra, diventerà legge proprio il cosiddetto processo breve. L'altro procedimento che il Cavaliere teme moltissimo e che tenterà di non fare partire è relativo alle presunte feste a luci rosse a Villa San Martino di Arcore. Un processo con il rito immediato al centro del quale c'è la giovane marocchina Karima Elmarughe, meglio conosciuta come Rubi. I reati contestati al Premier sono due, concussione per le pressioni che Berlusconi avrebbe esercitato nei confronti dei funzionari della Questura per far liberare Rubi appena fermata per furto e prostituzione minorile in relazione agli atti sessuali che Berlusconi, secondo la Procura, avrebbe compiuto con l'allora minorenne Rubi. Molte le iniziative volte a frenare l'iter processuale, dal conflitto di attribuzione che sarà sollevato davanti alla Corte Costituzionale alla richiesta, quella di ieri del PDL, di mandare gli ispettori alla Procura di Milano contro le intercettazioni indirette a carico del Premier pubblicate da alcuni giornali. Non è un'ipotesi remota prevedere tempi lunghi per il dibattimento del Rubi Gate. Anquietare Berlusconi è un procedimento che ancora deve essere formalizzato, quello gemello a carico di Lelemora, Nicol Minetti e Emilio Fede. Per tutti e tre i pubblici ministeri chiederanno a giorni rinvia giudizio. I nuovi atti depositati e i verbali delle ragazze pentite, Ambra Battilana e Chiara Danese, danneggiano l'immagine del Premier, anche se sono legati al procedimento parallelo. Minetti, Mori e Fede, lo ricordiamo, sono tutti e tre accusati di induzione alla prostituzione, anche minorile. Secondo la Procura, erano loro a portare le ragazze ad Arcore. E problemi indiretti per Berlusconi potrebbero provenire anche dalla strategia adottata dei tre. Se decidessero di patteggiare la pena, nel rito ordinario verrebbe letto come una missione di colpa, anche per il Premier. Inoltre, dopo Ambra e Chiara, sembra che altre ragazze sarebbero pronte a presentarsi in procura per raccontare le verità delle feste. Danilo Mariani, invece, il pianista che alliettava le serate di Arcore, dopo aver ammesso di aver ricevuto 100.000 euro dal Cavaliere attraverso i ragioni a Spinelli, era presente il 22 agosto, la sera in cui c'erano Ambra e Chiara e ha smentito la loro ricostruzione. Niente di più falso e questo ci tengo a precisare con forza, che queste sono balle, balle, ma veramente balle, perché ero presente e quindi so con certezza quello che dico, so quello che ho visto e so con certezza quello che sto dicendo. E c'è un altro tema che oggi Silvio Berlusconi ha toccato, per dire la verità, lo aveva già fatto alcune settimane fa, suscitando lo stesso, polemiche, ed è quello della scuola pubblica. Oggi Berlusconi appunto è tornato a parlare di scuola pubblica, ha detto che i professori inculcano valori diversi da quelli delle famiglie. Naturalmente anche qui le reazioni non si sono fatte attendere. Se il bersaglio prediletto da Berlusconi restano i magistrati, anche la categoria degli insegnanti risale oggi nella top ten più presa di mira dal Premier. Li aveva attaccati a voce maestri insegnanti della scuola pubblica meno di due mesi fa, accusati di voler inculcare nei ragazzi idee diverse da quelle che le loro famiglie volevano trasmettere. Brutto verbo quello scelto dal Presidente del Consiglio per riferirsi a degli educatori. Non un lapsus lingua evidentemente, allora parlava a braccio al convegno dei cristiano riformisti, visto che oggi il termine viene ripetuto in una nota scritta dedicata alla riunione padovana dell'Associazione Nazionale delle Mamme. I genitori, scrive Berlusconi, oggi possono scegliere liberamente quale educazione dare ai loro figli e sottrarla a quegli insegnanti di sinistra che nella scuola pubblica inculcano ideologie e valori diversi da quelli della famiglia. Nel pomeriggio, come spesso accade dopo la reazione a una soprovocazione, il Premier smentisce di aver voluto attaccare la scuola pubblica. Studenti, insegnanti e opposizioni tutte insorgono. Il Premier insulta e non è lucido. La quasi totalità di insegnanti e studenti della scuola statale è cattolica, replica il cattolico ex ministro della pubblica istruzione del PD Giuseppe Fioroni. Di un delitto contro la cultura e la libertà parla un altro cattolico, Ludici Mantini. E via via reagendo. Le repliche vanno da Paturni e da Gerontocomio, a Premier vicino ai limiti delle versioni, fino al paradosso Berlusconi che parla di mamme come il lupo che diviene nonna per mangiarsi la nipote. Il leader PD Bersani sceglie l'ironia. L'ennesimo uovo di giornata di quell'ignobile stupidario quotidiano che ci propina il nostro Presidente del Consiglio. Presidente Berlusconi, ma perché non va lei direttamente nelle scuole a inculcare i valori della famiglia? Visto che se ne intende, mettiamo i cartelli, scuola libera Berlusconi, qui si inculcano i valori della famiglia, corsi diurni, serali e quartali. L'Unione degli studenti annuncia una risposta di piazza il 19 aprile in oltre 50 città italiane. E chissà, magari Berlusconi raccoglierà l'appello, il suggerimento di Bersani, ma oggi Berlusconi tra l'altro appunto nel suo lungo discorso ha parlato anche delle amministrative, lo ha fatto anche nei giorni scorsi, le amministrative si avvicinano, le amministrative sono particolarmente importanti per il PDL, soprattutto a Napoli e a Milano. E a Milano per esempio già si scatenano i primi posizionamenti, per esempio il Finiano Granata ha dichiarato, aveva dichiarato l'altro giorno che lui avrebbe appoggiato in caso al ballottaggio Pisapia, ma subito è stato stoppato da un altro Finiano, dal responsabile di Futuro e Libertà, Bocchino, che ha detto che il partito non appoggerà mai un candidato di sinistra. Insomma, sono giorni importanti in cui si decidono gli schieramenti, da che parte stare prima, dopo e durante, ma quando si parla di candidature e di liste c'è anche molto, molto, molto altro di più. Benvenuti alle prossime elezioni. Se ci siano tutti non si sa, ma certo quella contenuta nelle liste presentate e che interesseranno più di 1300 comuni, ha tutto l'aspetto di una vera carica di aspiranti, pretendenti, candidati, presidenti, sindaci e consiglieri. Ma già prima del vaglio della commissione elettorale che deciderà delle ammissioni, sono già in onda le classiche schermaglie preparatorie, a suon di liste civetta o anche depistanti, di liste patacca e ricorsi già presentati. Aspettando la lista delle liste, quella definitiva, cioè si può già dire che molte abbiano già provveduto, fin dal nome, a tenere alto l'onore, se non della politica, almeno quello della fantasia. A tentare di mettere i bastoni tra le ruote, per esempio a Coppola, candidato PDL a Torino, ecco la lista Coppola, comitato popolare latino-americano, o anche, sfruttando un caso di omonimia, lista Coppola per Torino più rosa. Trieste, giovane, amare Trieste o un'altra Trieste, non importa dire dove saranno, e così nemmeno Novara davvero, o Ravenna punto e a capo, come a dire Bartalianamente che gli è tutto da rifare, detta anche lista del cimitero. A Cosenza, invece, c'è una lista che sembra il titolo di un thriller rudimentale, Obiettivo Sud, mentre a Capobasso si vola decisamente più alto, Gruppo Etico Molise. E se a Crotone Democratici, c'è chi lo scrive con la K, pensando al passato, a Melfi si scatena un imperativo assoluto, quanto generico, Vivi Libero. Più di Messa, invece, almeno nel tono, Speranza per Caserta. Potevano mancare poi i riferimenti al caso Rubi? No. A far da discutibile promemoria, ecco la lista Bunga Bunga, presentata a Torino, con tanto di donna, con palo, in versione lap dance, come corredo iconografico. Populismo, demagogia, furbizia, disinvoltura comunicativa, per ora non manca nulla. I programmi, semmai, arriveranno dopo. In fondo, siamo solo ai nastri di partenza. Come sempre, adesso invece vi parliamo di quanto è accaduto oggi sul fronte dell'immigrazione tunisina e sul fronte naturalmente che riguarda i permessi, perché che cosa è successo oggi? È successo che 20 tunisini hanno passato il confine da Ventimiglia, sono arrivati in Francia, proprio quella Francia che aveva detto no agli immigrati, porte chiuse, e allora che cosa è successo? Maglie larghe, porte aperte, controlli fatti troppo velocemente? Vediamo. Sono passate da poco le 14 quando qui a Ventimiglia arriva uno dei treni che passano ogni giorno nella città di confine della Liguria, destinazione Francia. Sembra uno dei tanti, pochi ci fanno caso, ma non sarà così, anche perché oggi non è una giornata qualsiasi. Sulla banchina della stazione, insieme agli altri passeggeri, ci sono infatti anche diversi migranti. Vengono dal Nord Africa, hanno percorso tutta l'Italia per arrivare qui e soprattutto sono riusciti a strappare dopo ore di fila a Ventimiglia l'ormai famigerato permesso di soggiorno temporaneo che il governo italiano ha cominciato a rilasciare da ieri pomeriggio. Eppure la loro avventura non è ancora finita, vogliono passare il confine, entrare in Francia, ma le regole di Sarkozy, almeno sulla carta, non lo permettono. Il ministro degli interni di Parigi, Claude Guéant, è stato infatti molto chiaro. Nei giorni scorsi ha chiarito ai prefetti di Francia che per entrare i migranti devono avere il permesso italiano, ma anche il passaporto e la garanzia di un lavoro sicuro. Un miraggio per chi emigra in modo clandestino. I migranti di Ventimiglia però non si arrendono. In venti ci provano lo stesso. In modo sorprendente, secondo la testimonianza di un giornalista sul posto, ci riescono. La gendarmerie sale sul treno all'altezza di Menton, controlla i ruoli documenti, ma li lascia passare comunque. È fatta. La notizia rimbalza in Italia e subito diventa un caso di cronaca, ma soprattutto un caso politico. Il ministero degli interni di Parigi infatti si affretta a comunicare ufficialmente che nulla è cambiato nelle disposizioni per i migranti alla frontiera con l'Italia. Le regole contenute nella circolare del ministro Guéant sono immutate. L'unica spiegazione, scrivono, è che i 20 migranti fossero in possesso dei documenti richiesti dalla circolare. E non solo. Anche la prefettura della regione di Nizia, competente per Menton, comunica che alle autorità francesi non risultano ingressi di tunisini in Francia, alla frontiera con l'Italia. Una reazione prevedibile anche perché proprio ieri sera il ministro dell'Interno aveva annunciato in un'intervista alla TV francese di voler abbassare l'immigrazione legale da 200.000 a 180.000 persone all'anno e rafforzare la lotta contro l'immigrazione irregolare. Peccato che il governo italiano avesse già cominciato a festeggiare per la presunta apertura della Francia. Ho visto, stiamo lavorando, ha commentato il premier Berlusconi, mentre Davide Boni della Lega si è spinto anche oltre. Le pressioni dell'Italia hanno portato al risultato più importante, ha detto, è un successo del ministro Maroni. Adesso invece andiamo in Libia. Non ci sono grandi notizie sul fronte o dal punto di vista diplomatico, ma invece è tutta da seguire. La situazione sul campo si continua a sparare, si continua la battaglia soprattutto a misurata e ora si parla anche dell'utilizzo delle micidiali bombe a grappolo. L'Italia fornirà destratori ai ribelli libici, lo dice Mustafa Abdel, già lì il capo del Consiglio di Transizione con una frase che lascia più di qualche dubbio. Con Italia e Francia siamo andati oltre il negoziato sull'invio di armi, dunque Roma potrebbe allinearsi sulla posizione di Parigi di armare i ribelli, non più come estrema razio con l'obiettivo di creare un esercito in grado di opporsi a quello del colonnello e di accorciare i tempi della guerra capitalizzando sul campo gli interventi della Nato. Non è chiaro neanche come debbano essere inquadrati gli addestratori all'interno della risoluzione dell'ONU che non li prevede. Sarebbe comunque un aumento della presenza italiana nelle operazioni in Libia il giorno dopo la decisione del Parlamento di non partecipare ai bombardamenti ed ha la più ampia scelta di snellire il numero di militari italiani nelle missioni internazionali. Jalil che nonostante le decisioni del Parlamento è tornato anche a chiedere al nostro paese di incrementare gli attacchi martedì sarà a Roma per discuterne proprio consiglio Berlusconi. Sul campo oltre 100 misti erano colpito in mattinata misurata da giorni nella città a 200 km ad est piovono i colpi dei carri armati e dei mortai. La stampa americana accusa Gheddafi di usare bombe a grappolo. Rais Moussa nega. Imprecisato il numero dei morti un drappello di medici senza frontiere è riuscito a portare fuori dalla cittadina oltre 60 feriti mentre in arrivo la Croce Rossa internazionale che potrebbe fare finalmente luce in maniera indipendente sulle reali condizioni della popolazione civile. Ad Ovest si combatte come ormai da più di un mese tra Ajabia e Brega. Anche qui anche oggi ci sarebbero almeno 6 morti le ultime notizie danno le forze dei Raisi in avanzamento proprio su Brega. Adesso la morte di Vittorio Arrigoni che ha suscitato lo sdegno in gran parte del mondo sono state arrestate due persone per il suo omicidio due persone che hanno confessato Hamas parla di una cellula impazzita. La prima notte a Gaza senza Vittorio Arrigoni è trascorsa così per chi lo conosceva palestinesi italiani altri stranieri qualche bambino candele scritte in ricordo preghiere commozione palpabile diteci perché non capiamo diteci perché avete ucciso Vittorio amico di Gaza intanto continua l'inchiesta che mira a ricostruire quello che è successo nella notte tra giovedì e venerdì a Carame quartiere della zona nord di Gaza City sono tre al momento le persone agli arresti per l'uccisione del cooperante Brianzolo hanno confessato in due sino ad ora l'assassino che avrebbe ucciso Arrigoni strangolandolo con le proprie mani ed un primo fiancheggiatore un terzo uomo sospettato anche lui di aver partecipato l'azione contro Arrigoni non ha ancora ammesso alcuna responsabilità il gruppo di ispirazione salafita più potente a Gaza ha preso oggi le distanze da quella che definisce una cellula impazzita dell'organizzazione estremista resasi protagonista di un'iniziativa incomprensibile negando di aver mai ordinato né il sequestro né tantomeno l'uccisione del 36enne militante filopalestinese il corpo di Arrigoni arriverà in Italia probabilmente non prima di lunedì la famiglia ha deciso di non farlo transitare il territorio israeliano tornerà nel nostro paese via Egitto dopo che saranno state sbrigate le complicate prassi burocratiche in vigore a Gaza il leader della striscia Ismail Ania ha ricordato Arrigoni durante la seduta del governo della striscia esprimendo condoglianze alla famiglia e a tutti gli italiani in ricordo di Vittorio Arrigoni la piattaforma che raccoglie le principali organizzazioni non governative impegnate a Gaza ha inviato un appello al governo israeliano affinché come gesto di solidarietà interrompa l'embargo commerciale in corso nei confronti degli abitanti della striscia e siamo alla sentenza della Thyssen i sette operai morti nel rogo sentenze dure omicidio volontario e 16 anni e mezzo per l'amministratore delegato della ThyssenKrupp e oggi ci sono le reazioni del mondo politico e dei sindacati adesso ci saranno i ricorsi ci sarà il processo d'appello altre carte verbali forse nuove testimonianze ma la sentenza di ieri sera rimarrà nella storia perché per la prima volta i giudici di Torino hanno sancito un principio semplice i reati in materia di sicurezza sul lavoro non sono reati fantasma esistono invece e hanno rilevanza penale un'affermazione scontata non si direbbe visto che ogni giorno in Italia tre lavoratori si alzano la mattina per andare a lavorare ma la sera non tornano a casa non torneranno mai più una strage in lievissimo calo e tuttavia una strage quotidiana non c'è nulla di bello in una sentenza di condanna a 16 anni e mezzo di carcere dietro la quale ci sono le vite spezzate di 7 persone e invece ieri la lettura della sentenza è stata accolta da un applauso cosa avevano da applaudire i genitori di Bruno Santino o di Rosario Rodinò o di Giuseppe De Masi morti a 26 anni nel rogo della fabbrica o quelli di Roberto Scola oppure i familiari di Rocco Marzo Angelo Laurino Antonio Schiavone era l'applauso un principio troppo spesso disatteso nel mondo dimenticato della fabbrica dice la Camusso segretaria della CGL questa sentenza afferma che la vita di un lavoratore non si può trasformare in profitto non era mai successo che un amministratore delegato venisse condannato per omicidio e per il leader della FIOM Landini per la prima volta si dà una risposta esemplare sulla tutela e sulla sicurezza dei lavoratori perché l'azione preventiva sul fronte della sicurezza è essenziale dice il ministro Sacconi e dice la CISL con la consapevolezza che nulla può compensare il dolore di quella notte tra il 5 e il 6 dicembre del 2007 quando dalla linea 5 una fuoriuscita di olio bollente investì gli operai e prese fuoco la sentenza non lenisce il dolore dei familiari afferma Antonio Di Pietro ma rende giustizia ecco finalmente in questo caso la legge ha funzionato ha reso giustizia ha inflitto la condanna del silenzio alla Thyssen colpevole di aver accettato il rischio dell'incidente in cambio del risparmio economico e tutto questo da ieri sera non è più possibile una sentenza esemplare ha detto Antonio Bocuzzi l'unico sopravvissuto alla notte di fuoco alla Thyssen restiamo nel mondo del lavoro perché la FIOM ha deciso di ricorrere ai giudici per Pomigliano e Mirafiori l'avevano promesso nei giorni caldissimi di Mirafiori dopo quel sì di misura ma crudele nel referendum un sì a un accordo spacca sindacato che cambiava la storia delle relazioni industriali un ricatto secondo loro quella promessa lunedì mattina verrà mantenuta la FIOM e le tute blu ribelli depositeranno al tribunale di Torino il ricorso contro la creazione delle società ad hoc le famose NUCO costituite per lo stabilimento Simbolo e anche per Pomigliano è l'inizio di una battaglia legale forse destino vuole nello stesso tribunale della sentenza shock di primo grado sulla Thyssen caso diverso certo ma è di lavoro e di diritti che si parlerà comunque se non è un segno almeno è un fatto quella di Marchion della Fiat fu una decisione antisindacale spiega oggi il leader dei metalmeccanici della CGL Landini ed è un'accusa che sembra riprendere forza perché il trasferimento di impresa e i legali l'hanno studiata bene sarebbe stata la scorciatoia per aggirare il contratto nazionale senza dimenticare che l'accordo separato ha separato così tanto che la FIOM come rappresentanza sta fuori dai cancelli perciò se la rigioca su un altro tavolo tavolo che si complica e un po' si allarga per esempio sul caso ex Bertone martedì ci sarà un incontro all'ingotto che sa veramente di altri tempi i leader di CGL Cisle, Will Camusso, Bonani e Angeletti e di Maulo della Fismic gli stessi che imboccarono strade diverse su Mirafiori e Pomigliano insieme alle confederazioni dei metalmeccanici vedranno invece proprio Marchionne sul futuro dello stabilimento di Grugliasco in fondo si inizia sempre così poi si vedrà se il copione è diverso alla Bertone una volta si carrozzavano Lamborghini e Giuliette mentre oggi si spera in un ruolo per le Chrysler che verranno scenario fondamentale per la salvezza di 1100 dipendenti non è sulle loro spalle che si possono scaricare tutti i problemi della competizione serve un piano ribadito oggi Susanna Camusso all'Assemblea Nazionale dei Delegati CGL e qui è stato recitato l'ultimo atto a sostegno dello sciopero generale di 8 ore del 6 maggio parole d'ordine fisco e lavoro contro il declino del paese declino una parola tabù trasversale che a quanto pare è rispuntata dal vocabolario di chi come dice la Camusso non si rassegna adesso invece vi raccontiamo la storia di una ragazza pakistana giovane molto bella e soprattutto bravissima a scuola una ragazza che improvvisamente è svanita nel nulla ma c'è il lieto fine una lettera aperta ad un giornale cittadino per far conoscere la storia di Jamila nome di fantasia 19 anni pakistana trapiantata con la sua famiglia a Brescia l'ha scritta un insegnante di un istituto professionale di Brescia preoccupato per le tante assenze a scuola Jamila è una ragazza dolce sensibilissima dall'intelligenza cristallina scrive il professore è piena di voglia di apprendere e di partecipare ha una pagella immacolata è una condotta irreprensibile però rischia di essere bocciata perché non frequenta più la scuola il suo difetto è di essere bellissima di una bellezza magnetica arcana indescrivibile scrive ancora l'insegnante una bellezza che è quasi una condanna per la sua famiglia musulmana di umili origini il padre è morto da poco e i suoi tre fratelli facendo valere l'autorità maschile com'è nella tradizione musulmana l'hanno segregata in casa non vogliono che la ragazza abbia rapporti di amicizia con i compagni di classe perché è già promessa in matrimonio ad un parente che vive in Pakistan ma le assenze di Jamila preoccupano i professori e i compagni che cominciano a scriverle messaggi sul telefonino alcuni le inviano anche le ricariche per non perdere i contatti e si viene a sapere che ad un insegnante la giovane avrebbe confessato anche il timore di finire ammazzata una sorte terribile già toccata negli ultimi anni ad altre due ragazze musulmane nel nostro paese la marocchina Sana e la pakistana Ina uccise dai parenti perché si sono allontanate dalla cultura d'origine per abbracciare costumi vita e valori troppo occidentali la lettera del professore questa volta colpisce nel segno nel caso si interessano le autorità competenti il console pakistano interviene presso la famiglia convincendo i fratelli che non avrebbero violato nessun principio islamico se le avessero permesso di frequentare le lezioni i familiari rimangono stupiti dalla richiesta ma alla fine accettano stamattina nella conferenza stampa alla questura di Brescia la madre e i fratelli confermano tutto Jamila è libera e lunedì tornerà a scuola anche se scortata dai fratelli una storia a lieto fine una volta tanto allora intanto vi dico che fra poco in onda saranno ospiti Felice Casson senatore del PD Oles Santelli deputato PDL Giorgio Airaudo responsabile Autofiom CGL per una puntata dal titolo processo breve sentenza Tissen G come giustizia ci fermiamo adesso Allora giusto il tempo per riferirvi delle parole del presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Luca Palamara in riferimento naturalmente al suo commento a quanto detto da Berlusconi oggi sui magistrati e Palamara dice non esistono parole e aggettivi nuovi per esprimere lo sconcerto e lo sdegno di fronte a tali affermazioni anche di questo immagino si parlerà in onda noi ci vediamo domani sera arrivederci